Treviso si tinge di rosa. Il Giro d'Italia tornerà nel capoluogo della marca per l'arrivo della dodicesima tappa giovedì 16 maggio. La frazione partirà da Longarone alle 14 e dopo 134 chilometri con il Gran Premio della Montagna di Cadel Poggio al 48esimo chilometro i corridori giungeranno a Treviso. Dalla Pontebana svolteranno in Viale della Repubblica fino all'incrocio dell'Estiore. Qui imboccheranno Viale Montegrappa e Viale Oberdan per entrare nel centro da Porta Calvi. Effettuata subito un'altra svolta in via Mura a Sant'Eonisto il gruppo percorrerà tutto l'anello interno delle Mura fino a Porta Carlo Alberto per poi immettersi sulla circonvallazione esterna e ritornare in Viale Oberdan. Un circuito cittadino che verrà percorso due volte fino al traguardo posizionato in piazzale Burchiellati nei pressi di Porta Sant'Omaso. Tappa riservata ai velocisti, la volata è prevista poco dopo le 17. Duplice l'omaggio al disastro del Vaillant di cui ricorre il cinquantesimo anniversario e ai Pinarello, famiglia simbolo del ciclismo trevigiano. Noi vediamo con l'opportunità la presidenza di Treviso e soprattutto come una festa, la festa dei trevigiani. Abbiamo deciso di far passare assieme al comitato RCS in Italia, fare un doppio passaggio nel docente storico di Treviso e quindi possiamo far vedere queste bellezze trevisiane. Approfitteremo della nostra mega tribuna, le Mura di Treviso, quindi potranno mettere i ciclisti credo un minimo tre volte se non di più o da una parte o dall'altra. Quindi ci stiamo mettendo tutta. Però un po' di impegno ci è voluto, ma abbiamo una grossa squadra, una squadra stupenda, più che rodata e che ci fa pensare anche impegni futuri. No, assolutamente no. Tra l'altro questo purtroppo è anche per fortuna il nostro lavoro, quindi che noi amiamo tantissimo. Abbiamo rifatto il contratto con lo RCS per i prossimi tre anni con l'opzione fino al 2017 e quindi tempo ne abbiamo. C'è tanta carne al fuoco, ci sono tante idee e sicuramente noi cercheremo di approfittare di questo nostro collegamento con lo RCS per il Giro Italia, che è sicuramente la festa più sportiva che abbiamo in Italia, per riportare questa manifestazione a qui a Treviso. Piazzale Burchiellati e Piazza del Grano saranno chiusi al traffico già dalla sera di mercoledì 15 per consentire l'allestimento delle tribune e del villaggio di arrivo. Dalle prime ore di a giovedì divieto di transito nell'interno mura per permettere il posizionamento delle transenne. Dalle 13 poi saranno chiuse al traffico tutte le vie che portano al percorso di gara. Nella giornata di giovedì parcheggi gratis in tutto il centro storico. Tutti i dettagli delle modifiche alla viabilità sul sito www.comune.treviso.it